Insieme alla Biblioteca Valle Laghi, la Biblioteca Valle di Cavedine ha proposto una serata di presentazione dell'Agenda 2030 che non ha però visto solo presenti gli esperti del Muse che parlavano ad un pubblico di quanto l'Agenda 2030 può essere, ma ha visto la partecipazione di più di 20 tra associazioni, istituzioni e anche singoli cittadini che già agiscono, forse senza sapere questo quadro che unisce la loro azione, all'interno dei gol dell'Agenda 2030. Erano quindi presenti, hanno avuto possibilità di parola, hanno parlato di quello che hanno fatto, di quello che fanno e anche di quello che faranno e si sono resi conto che questo può essere per loro una sorta di quadro di significato senza snaturare la loro azione, ma solo dando maggiore significato a quanto già fanno.